Siamo all'interno del porto dell'autorità portuale di Venezia. Questo ex cotonificio lo stiamo recuperando realizzando uno studentato universitario, 409 camere, 650 posti letto per l'Università di Ca' Foscari. Questo intervento di riqualificazione dell'area fondamentalmente è un progetto di recupero di questi immobili, sono immobili vincolati dalla sovrintendenza delle belle arti di Venezia e ha il presupposto di aprire la città verso il porto di Venezia cercando di far dialogare e integrare i due sistemi. Le facciate sono vincolate per cui è previsto il recupero della partizione in muratura facciavista ad integrazione di partizioni in acciaio inox AISI 316. Questi ragazzi stanno piegando le lamiere, stanno in questo momento facendo l'intervento di messa in sicurezza della lamiera e rigidimento. Queste lamiere fanno parte delle facciate dell'edificio cubo che rappresenta con questa lamiera il recupero storico della vecchia lamiera tipo Venezia che era fatta in piombo. È una lavorazione prettamente artigianale, specialistica, per la quale abbiamo dovuto allestire questo piccolo centro di trasformazione, qua sulla copertura del fabbricato perché altrove non c'era posto. Per Venezia questo intervento risponde a un'esigenza abitativa richiesta dagli studenti. Il fatto che qui una volta terminati i lavori entreranno generazioni e generazioni di studenti è una cosa che mi emoziona e mi riempie il cuore.